maturità pronti all'esame 3000 studenti pesaresi ospedale a muraglia il cantiere parte a settembre 2024 incidente ad auditore un pensionato muore disarcionato dalla moto novità sulla viabilità in bici da vismara torraccia passando sotto la ferrovia serate di grande successo per la mostra del cinema di pesaro buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è lunedì 19 giugno giornata che inaugura la settimana degli esami di maturità alla quale saranno chiamati circa 13 mila studenti marchigiani circa 3000 della provincia di pesaro e urbino si comincia mercoledì 21 giugno alle 8 e 30 con la consueta prova del tema di italiano identica a livello nazionale al pari della seconda prova specifica per ogni indirizzo di studio che è prevista la mattina seguente da lunedì 26 giugno cominceranno i colloqui orali si tratterà del primo esame di stato con la formula pre pandemia senza mascherina e senza distanziamento sociale e con le commissioni di esame composte da un presidente esterno da tre membri esterni e tre interni all'istituzione scolastica ed ora dalla scuola parliamo di ospedali perché il cantiere del nuovo ospedale di pesaro da costruire a muraglia partirà entro il settembre 2024 a ribadire tempi e modalità di progettazione l'assessore regionale francesco baldelli che replica i presunti ritardi ipotizzati dal consigliere regionale andrea biancani il progetto dell'ospedale di muraglia aprirà il suo cantiere entro il 30 settembre 2024 come da cronoprogramma arriva a dirlo l'assessore regionale all'infrastrutture francesco baldelli rispedendo al mittente gli attacchi dell'opposizione in particolare quelli di andrea biancani in merito a un presunto immobilismo progettuale a sette mesi dall'accordo di programma sul nuovo ospedale noi saremo in grado di partire anche adesso con la gara di appalto ma qualcuno non si è accorto che è entrato in vigore un nuovo codice degli appalti che salta un livello progettuale il codice degli appalti entra in vigore il primo luglio quindi noi che siamo la pubblica amministrazione ce ne siamo accorti ci sembra strano che non si accorgano politici che vengono definiti politici navigati per baldelli il nuovo codice degli appalti in vigore da luglio ridurrà i tempi delle opere pubbliche grazie all'introduzione di gare integrate che consentiranno di unire in un unico appalto sia gli incarichi per il progetto sia i lavori intanto è confermato il bando dell'azienda sanitaria territoriale per trovare nuovi locali in affitto dedicati ai servizi in particolare quelli psichiatrici che dovranno traslocare entro il via del cantiere del 2024 ed ora passiamo alla cronaca ancora sangue sulle strade alle 11 30 di ieri nel comune di auditore ha perso la vita il settantenne franco fronzoni autista in pensione di morciano che si stava recando a un motoraduno l'uomo percorreva la strada provinciale fra casinina e auditore quando per cause da chiarire è stato disarcionato dalla sua moto kawasaki finendo contro un cartello stradale l'impatto è stato fatale tant'è che i sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e nel carcere di villa fastigi è stato convalidato l'arresto per tentato omicidio del 25enne di origine albanese che ha accoltellato un coetaneo di origine marocchina all'alba di mercoledì scorso fuori da un bar di villanova di colli al metauro come vi avevamo riferito la scorsa settimana il ferito non è in pericolo di vita ma intanto le indagini dei carabinieri hanno ricostruito il quadro accusatorio di un litigio per futili motivi degenerato in un agguato con accoltellamento il responsabile dell'aggressione già noto alle forze dell'ordine era finito in manette poche ore dopo l'episodio grazie al riconoscimento attraverso l'analisi delle immagini di video sorveglianza presenti nella via c'è stato un incendio ieri all'hotel spiaggia albergo pesarese di viale trieste in prossimità della foce del genica alle 19 30 di ieri a causa di un cortocircuito nella zona lavanderia una nuvola di fumo ha iniziato ad espandersi dentro e fuori l'albergo le due camionette dei vigili del fuoco a corse sul posto hanno evacuato i quattro piani dello stabile portando in sicurezza personale dell'albergo e clienti sulla strada del lungomare di levante che nel frattempo era stata chiusa per svolgere al meglio l'operazione non si sono registrati feriti un'altra operazione dei vigili del fuoco è quella relativa a un soccorso animali avvenuto questa mattina nel comune di colli al metauro dove come si vede da queste immagini i pompieri sono intervenuti col supporto di un elicottero proveniente da arezzo per recuperare un vitello caduto in una scarpata il reparto a volo è stato assistito a terra dalla squadra di fano e dal personale veterinario il vitello è stato recuperato attraverso un'imbracatura ed è stato poi riconsegnato al proprietario dell'allevamento in questione e cambiamo di nuovo argomento in bicicletta da vismara la torraccia passando sotto la ferrovia per poi unirsi al resto della bicipolitana cittadina va in questo senso uno dei cantieri più importanti della viabilità cittadina allestito proprio in questi giorni per unire due delle zone più periferiche della città progetto che ci viene illustrato allora nel prossimo servizio dall'assessore Enzo Belloni tanti cantieri relativi alla viabilità cittadina in questo 2023 nella città di Pesaro tra i più significativi anche per la portata in qualche modo rivoluzionaria dei collegamenti è quello che andrà a legare il quartiere di vismara al quartiere di torraccia diciamo anche due delle zone fisiologicamente più scollegate della città e invece c'è questo cantiere assolutamente rilevante da questo punto di vista si devo dire che un lavoro forse uno dei più importanti rispetto alla bicipolitana pesarese no è una richiesta che i quartieri ci facevano da tanto tempo una comunità iniziamo tra cattabrighe vismara che era scollegata poi con la strada che chiamiamo strada del fammila siamo riusciti a collegarla ora abbiamo realizzato appunto la ciclabile di vialire lambro che per qualcuno sembrava non portasse a niente invece porta all'intervento più importante e strategico quello del collegamento appunto tra vismara e torraccia da qua la ciclabile sbuccherà nella rotatoria di santa colomba per poi arrivare e se voi vedete su via garin c'è già un attraversamento pedonale in due fasi vicino alla guardia di finanza e quello è l'attraversamento che ti porta sulla ciclabile del del fiume quindi residenti di cattabrighe e di vismara potranno arrivare in bicicletta senza più passare sulla statale e arrivare al centro commerciale all'impianto sportivo o se vogliono andare in bicicletta possono andare fino al mare utilizzando la ciclabile lungo il fiume ricordiamo la portata anche dello stanziamento su questo tipo di lavoro e anche una presumibile tempistica i tempi di realizzazione sono nove mesi da da contratto 270 giorni come riportato anche nel cartello di cantiere contiamo insomma di rispettare i tempi anche perché ripeto un'opera cui teniamo in maniera particolare l'impegno di spesa è di circa un milione di euro quindi un intervento importante perché anche se è molto corta però deve passare sotto la ferrovia con tutti e annessi e connessi che ci sono sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista dei tempi di realizzazione perché quando si lavora sulla linea ferroviaria poi le prescrizioni sono tante è partito con un grande successo di pubblico questo primo weekend della mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro un Pesaro Film Fest che continua con un ricco programma in attesa dei grandi BIC che ci saranno in città in questi prossimi giorni Carlo Verdone, Dante Ferretti, tornatore, attesi appunto a Pesaro tra giovedì e sabato 59 anni e non sentirli è partita col botto l'edizione 2023 della mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro dalla piazza piena con l'apertura di Flashdance alla preapertura con Ilaria Cucchi e Walter Veltroni procedendo giorno per giorno in un programma ricco e trasversale che spazia dalle sperimentazioni alle prime assolute dai film di culto fino ai focus su grandi nomi attesi a Pesaro quale Dante Ferretti, Carlo Verdone e Giuseppe Tornatore che saranno in Piazza del Popolo rispettivamente giovedì, venerdì e sabato sera Io credo che in realtà il festival sia nel cuore dei peseresi da tanti tanti anni quello che però è vero che è una cosa che più recente e di sempre maggiore intensità è il fatto che il festival ha allargato i suoi confini stiamo percorrendo un sentiero molto stretto secondo me, molto complicato ma che ci porta veramente molto lontano perché non rinunciando a nulla della nostra cifra qualitativa è un festival continuo ad essere un festival per specialisti, per amanti di cinema per studiosi di cinema stiamo cercando di non perdere nulla di questo dicevo però anche di allargarci ad un pubblico che sia appassionato di cinema ma ha un approccio diciamo più semplice, meno scientifico e ci sta riuscendo devo dire molto bene la piazza lo dicevi tu, lo testimonia ma anche il consenso del cinema in spiagge e un po' di tutte le proposte che facciamo dove il pubblico dei cinefili incontra il pubblico degli appassionati e riusciamo a soddisfare entrambi Intanto continuano anche le prime assolute di film italiani presentati a Pesaro come Cocorico Tapes proiettato ieri sera che ripercorre l'epica delle celebre locale riccionese Il film comincia con Game Over, Try Again che è un po' e finisce con la frase di Loris che ha un suo piccolo antico se noi facciamo le cose per gli altri per condividere con gli altri per il piacere di farle per il piacere di stare assieme per il piacere di contaminarci ecco, spero che chi guarda il film soprattutto tra i giovanissimi riesca a fare un collegamento tra l'inizio e la fine e trovare le proprie motivazioni per il futuro E continua il ricchissimo programma che spazia dal teatro sperimentale al centro artivisivo e pescheria dai bagni Agata fino naturalmente alla piazza dove questa sera, 19 giugno alle 21.30 si accenderanno i riflettori su Piera De Tassis e la sua lezione di cinema che precederà la proiezione di dramma della gelosia Martedì 20 giugno alla stessa ora in piazza la proiezione speciale di Bellezza a Dio di Carmen Giardina Non solo centro e mare l'estate pesarese innesca da stasera ben 58 iniziative nei vari quartieri cittadini attraverso la confermata rassegna Pesaro, i tuoi spazi tra borghi e quartieri vediamo di cosa si tratta La filosofia è quella di portare momenti di aggregazione momenti culturali, momenti di divertimento non diciamo con una concentrazione nel centro storico nella zona mare per l'estate ma soprattutto negli infrasettimanali nei borghi e nei quartieri scoprendo anche dei luoghi più o meno deputati allo spettacolo ma che invece restituiscono un loro fascino quindi letture, incontri, laboratori approfondimenti anche storici come è stato fatto con Pesaro Segreta rispetto alle foto dei vari quartieri come era una volta e a proposito di questo come era una volta una volta quest'anno c'è anche la novità dell'apporto delle interiviere del museo oliveriano e biblioteche e qui andremo a scoprire dove nascono alcune delle storie più antiche di Pesaro da Lucus Pesaurensis individuato nella zona della collina di Santa Venaranda fino a Colombarone che è stato un luogo di scavi dello stesso Olivieri dal Settecento a Nobilara naturalmente per tutta la storia dei Piceni quindi insomma istituzioni anche di livello nazionale come l'oliveriano che si spendono all'interno dei quartieri per creare interesse di fusione pubblico ma soprattutto con la voglia di stare insieme e di passare una serata con alcuni input culturali poi da sviluppare ognuno nei propri ambiti guardando come si diceva anche alla Capitale 24 su cui abbiamo impostato un lavoro che parte proprio dai quartieri quindi c'è una grossa coerenza in questo perché crediamo che il successo della Capitale sarà dato non tanto dalla moltitudine di eventi o da quanto questi saranno i cratanti ma da quanto la popolazione pesaresi innanzitutto la sentirà propria quindi creare momenti ramificati come questo serve anche a questo e visto il successo del Presidente di Azioni crediamo che questa volta sarà confermato c'è anche una novità tra l'altro ci accompagna quest'anno anche l'unità di strada del CEIS non in tutti gli appuntamenti ma in alcuni per accompagnare anche su una parte educational rispetto al contrasto delle dipendenze di vario tipo a partire da quelle alcoliche e quindi in una situazione in cui si incontreranno anche famiglie, giovani pensiamo che sia un contributo in più da parte della realtà sociale veramente importante della nostra città Una giornata dedicata all'oncologia pediatrica è quella che Lions Club e comune di Gabice Mare hanno allestito ieri con una raccolta fondi che ha portato all'acquisto di un microscopio diagnostico in favore dell'ospedale Salesi di Ancona vediamo Siamo con Agostino Vastante Presidente del Lions Club Gabice Mare che ha ideato con alcune importanti collaborazioni di cui ci dirà questa manifestazione così importante a lui naturalmente chiediamo di parlarcene e di introdurci a quelli che sono i temi e gli argomenti che ci hanno portato qui di domenica mattina nella piazza Municipio di Gabice Mare Grazie a voi questo è un evento importantissimo per noi Lions è un evento che vede coinvolta la terza circostrizione la zona A che comprende sette club hanno aderito a questo progetto il progetto consiste nell'aver acquistato un microscopio con focale da donare all'ospedale Salesi di Ancona siamo enormemente orgogliosi e fieri di questo service di questo progetto perché donare uno strumento del genere significa regalare speranza di vita a bambini che in questo momento stanno soffrendo a genitori che sono appesi appunto a una speranza e come genitori e come uomini e come Lions appunto siamo veramente orgogliosi e fieri imprenditori aziende in più l'associazione internazionale Lions che è intervenuta con 100 mila dollari in un lavoro che è durato tanto però abbiamo raggiunto l'obiettivo l'obiettivo è stato raggiunto questa attrezzatura tecnica costosissima è stata acquistata ma noi siamo qua e vediamo che la raccolta fondi continua perché diciamo che non si arriva mai alla fine diciamo che i soldi non sono mai in più come si suol dire sì allora l'obiettivo è stato raggiunto con quello che raccoglieremo oggi in questa giornata andremo ad acquistare delle parti integrative oppure pensavamo alla formazione del personale che dovrà essere abilitato ad usare questo strumento quindi il Lions è sempre in movimento il Lions c'è e il valore umano fa la differenza in questo caso bisogna bisogna proprio dirlo e l'intero speciale dedicato a questo argomento che avete appena visto andrà in onda venerdì 23 alle ore 21 e 20 ed ora ci spostiamo a Carpegna perché ieri c'è stata la settima tappa del Green Festival San Marino Monte Feltro si tratta di un evento itinerante dedicato ai valori della biodiversità che ha portato a susseguirsi per tutta la domenica tavole rotonde escursione all'interno del parco Sasso Simone Simoncello spettacoli nel verde e degustazioni di eccellenze no gastronomiche del territorio spettacolo ieri mattina lungo la costa pesarese con la quarta edizione della regata del solstizio organizzata dalla Lega Navale pesarese con la collaborazione del circolo velico Ardizio ben 36 le barche partecipanti salpate per una regata sostenuta sempre da discreto vento tra i cabinati che hanno compiuto due giri il più veloce è stato cavallo pazzo dello skipper Antonio Severino mentre tra le barche più piccole che hanno concluso la gara con un solo giro attorno alla boa ha prevalso dai sali su dello skipper Bernardina Rossini ed ora lo sport oltre al Fano ci sarà anche un'altra squadra di calcio della provincia di Pesaro e Urbino a militare in serie D nella stagione 2023-2024 si tratta del Fossombrone che dopo il 2-2 dell'andata ha vinto la finale play-off di ritorno per 2-1 battendo in casa la Gazzanese grazie ad una doppietta di Germinale per Fossombrone un ritorno in serie D a 12 anni dall'ultima partecipazione e allora davvero complimenti al Fossombrone calcio ma facciamo i complimenti anche ai Ranocchi Angels di Pesaro perché sognano la serie A2 di football americano e ieri hanno vinto in casa la semifinale play-off domenica voleranno a Catania per una storica finale di conference al campo scuola di Via Respighi i Ranocchi Angels travolgono i pretoriani Roma nella semifinale play-off con un 44-14 che vale la prodo alla finale di conference del 25 giugno a Catania un risultato che è la ciliegina sulla torta per Filippo Pier Maria e Luciano Civinelli due giocatori che si congedavano dal pubblico di casa per raggiunti limiti di età gli Angels partono subito forte e vanno all'intervallo sul 25-14 trasformando poi la ripresa in un monologo pesarese fino al 44-14 finale la partita è stata sicuramente ben interpretata dai miei ragazzi dai nostri ragazzi ci eravamo preparati studiando il loro attacco e la loro difesa c'è stata una buona presenza agli allenamenti quindi abbiamo potuto lavorare bene e questo è il risultato la partita è il risultato degli allenamenti il risultato di un gruppo che ha molto entusiasmo e che aveva voglia di prendersi una rivincita contro questa squadra che due anni fa ci ha buttato fuori dai play-off una partita che si è rivelata fisica la squadra avversaria era molto ben disposta e quindi nonostante il largo margine finale però è stata una partita tosta e all'inizio infatti abbiamo dovuto imporci in attacco fisicamente con giocate molto fisiche e molto tecniche però poi alla fine alla lunga distanza siamo venuti fuori come racconta il punteggio noi siamo contenti chiaramente di andare a giocarci la finale della conference ci prepareremo bene abbiamo insistito con i ragazzi anche di fuori di allenarsi sia il martedì che il venerdì e cercheremo di mettere in campo una squadra pronta per vincere anche questa partita eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale di questo lunedì ma attenzione da questa sera vi mostriamo di nuovo un bellissimo programma che abbiamo realizzato che racconta e parla del nostro entroterra e della nostra provincia di Pesaro Rubino si chiama Green Tour e a questa sera alle 21.20 racconteremo e vi spiegheremo al meglio il comune di Monbaroccio domani invece ritorno alla guida della rassegna stampa quindi vi aspetto puntuali alle 7.20 in diretta chiaramente saremo puntuali nella pagina Facebook ma soprattutto sul canale 80 e come sempre l'invito soprattutto nella stagione estiva è quello di scaricare gratuitamente la nostra applicazione molto semplice da utilizzare potete vedere i nostri programmi in diretta in qualsiasi parte del mondo quindi anche quando siete al mare o in spiaggia o in vacanza aprite l'app di Rossini TV collegatevi agli orari insomma dei nostri consueti programmi di informazione per vederci in diretta e grazie come sempre per averci seguito ci rivediamo appunto domani mattina con la rassegna stampa